Buongiorno e benvenuti allo Spoyos Hermanos del 2 Agosto Nel 1961 inizia ufficialmente la leggenda dei Beatles al Cavern Club Per due anni saranno gli headliner di questo club mitico Lo stesso giorno ma di un anno dopo un losco figuro cambia legalmente il suo nome Da Robert Zimmerman al più famoso e conosciuto Bob Dilan Chiudiamo con un compleanno 69 anni per il coproduttore e batterista di Garbage E dice vabbè braccio però è una notizietta questa non è una cosa interessante E invece no perché costui è Batch Week Grandissimo batterista ma anche e soprattutto grandissimo produttore di Nevermind De Nirvana, di Gitch e Simon's Dream dei Smashing Pumpings A domani Ciao a tutti 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 Ciao a tutti